Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono King's Eleven Corporation e oggi siamo qui per parlare di una cosa abbastanza importante che vedrete in futuro nel canale ma soprattutto sia su Twitch sia su Youtube ovvero la famosa Playstation 2 ovviamente che avrò si, arriverà tra un mesetto, spero pure meno, nei mesi di febbraio e insieme a quella porterò anche Horizon Forbile West e Ratchet & Clank Rift Apart anche God of War Ragnarok, perché no? però prima di iniziare signori vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Youtube e su Twitch come King's Eleven Corporation, nuova pagina Instagram King's Eleven 18 che è la mia pagina ufficiale dove potrete vedere nelle mie stories, sondaggi, informazioni sui canali ecc dopodiché, se ve l'ho spiegato anche ieri in live tengo a precisare questa cosa, vi ruberò giusto due minuti dopodiché continuiamo per il video in poche parole, quello che sto cercando di portarvi sono le serie work through di Ratchet & Clank Rift Apart Horizon Forbile West e God of War Ragnarok ok? si pure Marvel's Spider-Man 2, Marvel Wolverine eccetera 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 però, visto che è molto... come dire, ci vuole troppo impegno per portarli su Youtube perché ci vogliono i montaggi eccetera eccetera io non posso fare troppe cose però voi li volete, la serie la serie la volete di tutti i giochi allora, che cosa sono disposto a fare? questa è l'unica cosa l'unica cosa che mi viene in mente è questa ovvero, innanzitutto seguirmi tutte le volte in live su Twitch sempre seguire Instagram e Youtube come King's Eleven Corporation su Instagram King's Eleven 18 eccetera 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 dopodiché ci vogliono tre fasi tre fasi per vedere i work through la prima fase è mentre sono in live donare un quantitativo quello che volete a questo questo link che trovate qui sotto di me lo metterò anche in chat su Twitch quindi mi raccomando non mancate lo metterò anche in descrizione il link su Youtube sempre nei video non vi preoccupate dopodiché io mi segnerò il nome della donazione e voi in privato non in chat in live ma in privato messaggio privato su Twitch sempre mi scrivete il vostro account Instagram dopodiché io tramite il nome della donazione e il vostro mi segnerò seguirò voi su Instagram dopodiché vi scriverò in privato su Instagram vi invito il link di Telegram che è un canale privato dove potete vedere i work through ok? soltanto a voi va bene? ok questi sono i tre passaggi entrate poi il terzo passaggio va bene è inerente entrate nel canale Telegram aspettate che il link ve lo invii dopodiché supportarmi ancora sempre in donazione va bene? ok detto questo direi che possiamo andare avanti con il video ok ragazzi i video che vedremo oggi saranno questi inerenti a Playstation 5 vedremo diciamo l'unboxing l'unboxing di tutti i colori della Playstation 5 allora mettiamo il video in 4k sottotitoli in italiano ah ok posto ok abbiamo spusate ragazzi ma secondo me l'italiano qui fa veramente cagare disattivati a posto ecco quello che mi interessa di più è i mid ma io veramente ragazzi è proprio oggi non mi doveva capitare nessun errore invece mi sta capitando quello che mi interessa di più ovviamente è i midnight black nero mezzanotte perché è quello più performante noi abbiamo Nova Pink Starlight Blue e Galactic Purple quindi se non puoi vedere c'è un'altra galeria di colori comunque è bellissimo che cosa dobbiamo aprire prima Carl scelgo no scelgo scelgo sì sì io 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 Carl lost purple bellissimo bello 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 not gonna lie listen I'm not a huge fan of purple and no acting purple looking all right it's not bad how does it stack up against what we've got over here you think it's missing something what's it miss blue blue we'll go for that next mmm 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 ok no this is better than the purple bro sono veramente belli ragazzi però io ho già deciso quale prendere quello nero anche la cover anche la cover di playstation c'è anche il blu c'è anche il blu bellissimo sono veramente tutti belli veramente adesso passiamo alla parte più cicciosa ovvero le cover no io voglio quello nero fammela vedere non ho le pubblicità non ho le pubblicità fammela vedere bellissima bella 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 molto carina molto carina ok va bene direi a posto così allora ragazzi ieri sera mentre giravo per youtube ho visto che questo ragazzo frozen diciamo spacchettava tutti gli accessori di playstation 5 e diciamo che vederlo insieme a voi sarà molto interessante anche se già l'ho visto comunque vediamolo madonna ragazzi qui è frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video unboxing ok fammi vedere tutti i unboxing vai il classico dual sense e tra l'altro compro per usarlo sul computer so un esempio campato in aria come faccio se non ho il bluetooth cosa ci siano i singoli i pacchi quindi cartone che cos'è questo il telecomando ovviamente batterie sony libretto di istruzioni il telecomando non è che mi interessi molto in realtà cioè il design del telecomando ragazzi è una roba bellino niente di eclatante è bello figo figo vestirci direttamente nel controller quello che mi interessa anche prendere è anche il charger station che vi faccio vedere si eccolo qua tipo questo però non quello fasullo quello della sony ovvio che quello della sony è questo esatto esatto guardate che figo la qualità si mi occuperà spazio nella mia postazione però ragazzi vale la pena veramente si attacca qui ovviamente per caricare vabbè il gioco demon souls a me purtroppo i souls like a me non mi piacciono no la parte più interessante le cuffie però quando apro le cose comode tipo cavi quelle cose lì le abbiamo adesso di sì ok nice eccole qua sono belle anche le cuffie va bene detto questo ragazzi il video è venuto abbastanza lungo 12 minuti direi che va bene così detto questo ragazzi io vi saluto vi ricordo di seguirmi su instagram su youtube su twitch come king's lab corporation nuova pagina instagram king's lab 18 mi raccomando dove potete vedere le mie stories i sondaggi le informazioni dei canali dopodichè se volete vedere i walkthrough di ratchet and clank rift apart horizon forbid west e god of war ragnarok e altri giochi che verano in futuro vi basta fare semplicemente no scusate tre passaggi uno venire in live su twitch donare a questo link che metterò in chat e anche sovraimpressione ok qui sotto donarmi il vostro quantitativo somma di denaro dopodichè scrivermi in privato il vostro IG instagram dopodichè io scriverò il vostro nickname della donazione vi associerò alla donazione e alla scritta in privato dopodichè terza fase vi scrivo in privato aspettate che io inserisca il link di telegram voi entrate in telegram mi supporterete ancora e io vi farò vedere i walkthrough ok così doppia fatica però almeno devo guadagnarci qualcosa va bene detto questo vi ringrazio ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao